Beppe! Bummi! Indovina cos'è? Cos'è cosa? Anch'io! Anch'io! Oh, insomma, ordine! Non solo ordine! Pulizia, assortimento, cura e tanto, tanto affetto! Cos'è? È dove siamo noi! Non dovevi rispondere tu! Anche gli animali lo sanno! Il meglio per loro si chiama Fortesan! I migliori articoli, le migliori marche, cani, gatti, acquariologia, rettili, ornitologia, roditori! Fortesan, l'amico degli animali!